bella a tutti ragazzi bentornati su planet side 2 siamo con la fazione nuovo conglomerato ho preso un assalto leggero perché adesso prendo un un aereo un river un river e vado a vedere dove andare perché ho appena logato quindi mi devo spostare nelle zone calde allora vediamo qua c'è il bio lab stanno combattendo sotto il bio lab per andare lì qua ci stanno attaccando la base magari potrei andare lì a vedere che mappa è questa merish quindi prendiamo come colorazione anche quella lì andava bene si riteniamo quella ok partiamo guardate che solo che c'è allora devo stare attento adesso che se la base sotto attacco vuol dire che ci sono nemici in giro io ho visto qualcuno io ho visto un altro ecco lì ecco lì e che cavolo mi ha riagganciato di nuovo durazzo vabbè una kill l'abbiamo fatta devo già andare qua a ripararmi ah no che non c'ho vabbè si ripara in automatico ho l'autoriparazione piano piano allora il mio party vuole andare dove è giù lì allora proviamo a prenderla un pelo più larga tutto adesso c'è tutto pronto di nuovo qui c'è un aereo che però se mi sta andando lo vediamo un po' hanno già ammazzato giù tutti non c'è più nessuno questo ha visto qualcosa che cavolo l'aereo di merda sta scappando troppo lontana faccio sempre fatica quando mi attacca un aereo a ribeccare a vedere dov'è a ribeccare beh ma è sempre così qua ci sono quelli che riescono a girarsi bene tac in un attimo beh sono quelli schillati con l'aereo no vabbè qua sembrerebbe tutto a posto tutto tranquillo magari vediamo spostarsi qua un po' più avanti vediamo cosa c'è qua c'è un sandra tipo adesso io sono quello che scappa ah non posso ripararmi abituato ad essere sempre geniere di ricordarmi che posso saltare giù dall'aereo quando sono nella cacca andiamo qui non c'è niente c'è ancora l'aereo più un altro aereo lì sopra poi faccio fatica anche a beccarli a vedere qua cosa c'è è morto mi basta fare qualche kill oddio mi ricordo ho dato quanto è pieno di aereo vediamo se c'è ancora qualche tizio si è lanciato e mi ha dato la kill a me non ho fatto un cazzo vabbè ottimo quello sono io come gioco io quando sono attaccato da uno buon qua è pulito eh c'è uno che mi spara mi sposto c'è troppa gente via ce la diventa sicura se è uscito a scappare forse non vedo più nessuno ufff brividi no vediamo andrei un attimo qua perchè lì metto il simbolo metto il simbolo e non mi va allora provo a ritornare lì poi mi faccio una tonda anche giù di là c'è un morto perchè stanno arrivando con le truppe allora io quasi quasi faccio un salto giù di là perchè un consiglio malato contro i tank l'aereo sei troppo debole se riesci a metterti nella posizione dove loro non riescono a beccarti allora allora si ecco vedo due eri nostri ecco vedo un tizio loro ci dai dietro amico ci dai dietro amico? non vedo più nessuno non so da dove più amico più amico ah non vedo nessuno vuoi capire un po' come sono disposto sicuramente sarà di là ecco questo è tozzo qua è nostra l'uomo è per le ... ... ... ... ... quando devo armi non ho ovviamente devo spararmi la cura dai ma come ha fatto ad agganciarmi cazzo guarda te sono riuscito a nascondere dietro guarda te parco and let's go E vaffanculo Niente io ve l'ho detto Contro l'aereo Poi a parte noi abbiamo degli aerei un po' Pacco Che non riescono ad allinearsi bene come quelli Ma perlomeno Non siamo morti Adesso Vedo che il mio capogruppo è di qua Per cui magari Andiamo a dare una mano di qua Io con gli scontri aerei è una cosa incredibile Minchia c'è Quell'armato che spara dritto lì Suizzo medico così do una mano Non c'è un po' Non c'è un po' Non c'è un po' Tutto Ma ci sono morti tutti insieme Cicchino di merda Giù accucciati Devo uscire adesso Pronto Pertenti Bacciamo andare avanti un po' di gente Mine Tirato quello per restare tutto Cazzo che spara da dietro C'è uno che spara da Ben educato C'è uno che spara da dietro Ehm... C'è uno che spara da dietro Ehm... C'è uno che spara da dietro Io mi lascio qua Ehm... C'è uno che spara da dietro Ehm... Bisogna andare... Secondo me... A ripulire Prima nel centro Ehm... Io li ci sta una massa che cavolo muerto muerto vediamo 5 secondi adesso ho messo il timer qua per vedere quanto ti manca per essere rissato qui intanto uno si può guardare almeno una minimappa a vedere se c'è il medico che gira o quant'altro allora siamo messi male stanno arrivando cosa facciamo andiamo di max dai proviamo proviamo operazione suicidio mettici davanti bomba sapevo che buttava giù il c4 non mi metto lì perchè arriva quello col c4 adesso lo strattendo non mi arrivi da dietro ormai li conosco questi devo aspettare dentro stanno morendo di qua ci sono sopra la rischiamo vediamo lì vediamo lì vediamo lì vediamo lì qua di qua di queste cose vi aspetto qua forse lo stiamo una volta facevano più male queste cazze di... ah Sì un po' più intenzione Furion mi chiede però Tu sianza vinta Sì un terribile Mi ha fatto un po' il kill dai però Sì se sono vicini così Però vado giù come rider Mi ha fatto un po' il target però non ho il target Sono troppo lontani per la mia armi Pensando a dove andare Dietro non sarà il suo Non so Perché non sono fuori vinta proprio Non so Dai davanti Cosa impressionante Lasciate seccare o cosa devo fare Questa è Questa è avanzata Due minelle Me le ha tirate tutte e due sopra Non lo so Stanno sparando da dietro Sì Il nostro appunto C4 Perché appena uscito si è fatto vedere come Max Adesso la prima cosa che li lanciano è Allora Sto attenti da qua Vediamo il scelto centro dal primo Sto attenti da qua Sto attenti da qua E una mina in là Sto attenti da qua Sto attenti da qua Sto attenti da qua La struttura è al sicuro Sto attenti da qua 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 Fare il figo non mi sono accorto Che stavo morendo come un cane E sono morto Grande che mi resta Grande che mi resta Grande che mi resta Grande che mi resta Non ce l'ha fatto Però almeno ci ha provato Sono stato in gamba Ok ragazzi Chiudo qua la registrazione Vado avanti con un'altra Perché sennò diventa troppo lungo Già Ho fatto un video L'altro giorno Da un'ora e passa Ho dovuto eliminarlo Niente Ci vediamo alla prossima Lasciate un like Se vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Mi raccomando Ciao David Smoke